Undicesima giornata del campionato di calcio elite under 17 Al Castelli si affrontano Procalcio Torsapienza, padrone di casa e atletico Terme Fiuggi Subito in avanti padrone di casa, al settimo Pugliese, serve Saricu che ci prova col sinistro Pronta la risposta di Serra Al dodicesimo Pugliese porta palla, entra in aria, centrale però la conclusione del numero 10 Nel finale di tempo Migani viene atterrato in aria, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty Realizzato poi da Sgrulletti Nella ripresa l'atletico alza la testa e al diciassettesimo sfiora il pari con questa giocata di Loduca Che sprega davanti a Chichi Pareggio ospite che arriva due minuti più tardi, lancio di Rossi per Davello Il numero 11 controlla, entra in aria e trova un sinistro rasoterra che fulmina Chichi Al ventiquattresimo punizione dal limite di Siricu Serra intercetta ma non trattiene e Zara tutto solo, deve solo appoggiare in rete Raddoppio pro calcio che arriva nel miglior momento degli ospiti In pieno recupero i locali servono il tris, Fusarini va via sulla destra, si accentra e lascia partire una conclusione respinta da Serra Sulla quale si avventa Di Martino che sigla il 3-1 finale Buona prova della pro calcio Torsapienza che rialza la testa dopo il KO esterno col monte spaccato L'atletico Fiuggi gioca un buon secondo tempo ma paga l'aver sprecato l'intera prima frazione